Hola gentaglia, benvenuti su questo nuovo episodio Mi sono accorto che non stavo registrando E quindi, benvenuti su questo nuovo episodio Di Forsyth Fantasy With Nocturnal No, a parte i coglionazzi Ecco, cominciamo Dai, saluta Che palle Allora, come ho detto Io avevo già fatto un video Dove Ci giocavo un po' e quindi Ecco, avevo già fatto un video Ci giocavo, ma Tipo, l'ho presa malissimo Non so che cosa è successo, ho buggato il gioco Mi sono ritrovato in un altro mondo Sono caduto per tipo 10 minuti Ecco, no In questo esatto modo E mo vi faccio vedere che cosa succede E ti porta Qua Però l'altra volta non mi ha portato qua Ma in un punto dove non potevo risolvere la situazione Va bene Adesso sappiamo che c'è Un problema Really? Non posso utilizzare lo stampo Seconda puntata Finisce qui Il gioco Non voglio più parlarne Da, davvero Sì Cioè, partiamo subito Con una stronzata genere Che stavo a scherzare No, non voglio ripeterlo al livello Per un'ennesima volta Non mi giro per niente No Ragazzi, questo è il finale Perché non è partito bene Non mi piace Il fatto che ci siano così tanti Non è la prima volta che mi fa questo Questo bug E non ho intenzione di Giocare Beh, quando ho intenzione casca Non ho intenzione di giocare a un gioco così Cioè Magari sulla PS4 Sarà pure fantastico Ma non su PC Nel senso Per una stronzata No, no Cioè Potresti arrivare probabilmente A fine A fine gioco Dopo esserti veramente Spaccato di marroni Perché Fatta una testa tanta Perché Per risolvere un puzzle Giustamente E poi magari Te se paga Sì, va bene Le risposte le conosci tutte Però porca puttana Che Scusate il termine Coglioni Con Ragazzi Mi dispiace per questo secondo episodio Brutto E Finito È finito Spero che il video vi sia piaciuto Spero che la dimostrazione Dei bug Spero che Troverete anche Il bug E le segnalerete Comunque sia Perché io non ho intenzione Di segnalarli E noi ci vediamo Con il prossimo gioco Con un nuovo gioco E Doverò cercarlo E saranno Cazzi amari Bye Bye